Buongiorno ragazzi per i capelli benvenuti in questo nuovo video Macedonia del nord Italia 1 a 1 Come vuoi andare all'europeo Come vuoi andare all'europeo Se hai fatica contro la Macedonia La Macedonia Pareggi con la Macedonia Una Macedonia che doveva finire 3 a 0 4 a 0, 5 a 0 Cozzagnolo, Retechi che non ha manco messo Cioè un attacco che diciamo Che poteva essere migliore Sicuramente sicuramente ragazzi Però oggi c'è Oggi inesistenti Quante azioni abbiamo avuto Troppe Quante azioni abbiamo messo in porta Una su 5 mila Questi quei ragazzi hanno avuto un tiro in posto E lo hanno fatto abbastanza bene E lo hanno fatto ragazzi Una a una Adesso ci complichiamo tutto A Milano adesso O vinciamo contro l'Ucraina Oppure è finita O vinciamo Oppure che ne stiamo a casa Anche nel 2024 In Germania In Germania non ci andiamo ragazzi Secondo me va a finire così In Germania si passa L'Inghilterra E l'Ucraina ragazzi Inghilterra All'Europa E noi come campioni d'Europa Come campioni d'Europa Ce ne stiamo a casa Ce ne stiamo a casa Secondo me ragazzi è giusto così Perché se hai difficoltà Lo ripeto A battere la Macedonia Allora teniamo qualche problema Qui dentro Qui dentro Perché non puoi pareggiare E soprattutto perdere due punti Che adesso rischi un botto Rischi un botto Di rimanere a casa Di rimanere a casa Questo ragazzi è un problema È un problema che dobbiamo risolvere O risolviamo questo problema Oppure ce ne stiamo a casa Perché Dopo stasera veramente Ho perso tutte le speranze Ho perso tutte le speranze Di poterci qualificare Perché Se perdi con l'Inghilterra Ci può stare Se vinci a Malta Ci può stare Poi ovviamente Nations League L'Ucraina ha fatto un punto oggi L'Inghilterra ha pareggiato ovviamente Entrami un punto E diciamo che Adesso siamo messi In uno scontro diretto Se vinciamo ovviamente Contro l'Ucraina Milano Tutto apposto E se tu vai là E non butti in porta Ogni pallone Che hai in mezzo ai piedi E come stasera abbiamo avuto Siamo 5.000 occasioni Una messa in porta Da Ciro immobile Ma se fai così L'Ucraina ti distrugge L'Ucraina ti distrugge Mettiamocelo qua dentro O vinciamo Milano Oppure ce ne stiamo a casa E' così semplice E' così semplice Ce ne stiamo a casa Ma Alla fine andrà a finire così Che ce ne stiamo a casa Perché pareggiamo contro l'Ucraina Faremo sempre la stessa cosa Ragazzi Ma io voglio che toglie la Juventus Perché qua non ce la faccio più Qua non ce la faccio più Non posso Ogni volta Che vedo giocare La Nazionale Intossicarmi in questo modo Non posso ragazzi Non posso Non posso E' sempre così Sempre così E' sempre così Ci intossichiamo Ogni volta Che vediamo giocare Sta Nazionale E quando Le partite contano Perdono Pareggiano Supplementari Palla fuori Quando una partita Non conta Una santa minchia Fanno i fenomeni E' sempre così E' sempre così Comunque ragazzi Tutto rimandato a Milano Speriamo di vincere Perché se no Ragazzi Lo ripeto Ce ne stiamo a casa Ce ne stiamo a casa Tutto complicato Però ragazzi E' arte nostra E' arte nostra Comunque Detto questo Siete dal canale Commentate Condividete Fare tutto ragazzi E forza Azzurri Sempre e soprattutto Forza Juve Sempre ragazzi C'è Ogni volta Sempre intossicato Sempre intossicato Mai una caspita di gioia Spalletti Non cambia niente Ma che sia Mancini Prandelli Ventura Spalletti Non cambia mai niente Ragazzi Non cambia mai niente Mai cambierà E sicuramente Resteremo sempre così A meno che non ci svegliamo Perché sarà sempre così Sarà sempre così Purtroppo Sarà sempre così Comunque detto questo Sempre solo forza Iscrivetevi al canale Commentate Ecco è tutto Condividete questo video Perché ragazzi E' importantissimo Ci vediamo Nel prossimo video ragazzi Sempre solo forza Azzurri Ci vediamo Ciao ragazzi